gentili telespettatori buona giornata benvenuti a questo video di tele italia il presidente del consiglio giuseppe conte dice stiamo valutando se intervenire ancora oggi è sabato tenete presente che la domenica è il giorno dei dpcm di conte quindi il presidente del consiglio intervistato in occasione della festa del quotidiano il foglio ha dichiarato abbiamo adottato un quadro di misure restrittive e a livello regionale ci sono dei governatori che stanno adottando misure ancora più restrittive stiamo lavorando ci stiamo confrontando con gli esperti e valutando se intervenire ancora le riflessioni del governo spiega hanno a che fare con l'andamento dei contagi per la portata di questa seconda ondata non c'è un manuale né una palla di vetro i numeri sono molto preoccupanti in tutta europa in realtà i manuali su come europei su come affrontare le epidemie ci sono ma sembrerebbe che in italia non siano mai stati aggiornati questo non solo da questo governo ma negli ultimi negli ultimi negli ultimi anni quindi il governo nonostante voleva conte aspettare fino al all'otto di novembre per far passare i fatidici 15 giorni per vedere gli effetti del dpcm quello del 25 di questo mese probabilmente prenderà delle misure prima perché la curva dei contagi cresce esponenzialmente e quindi questo è quello che probabilmente ci aspetterà da domenica un nuovo dpcm ancora più restrittivo anche di maio dice praticamente le stesse cose sicuramente sono ore di riflessione europea belgio francia e altri paesi hanno dichiarato un lockdown rispetto a questa curva l'italia non è nella parte alta dei contagi non dobbiamo stare noi dobbiamo ci dice non dobbiamo stare tranquilli ma dobbiamo capire se anticipare mosse per evitare che la curva peggiori dice luigi di maio intervistato anche lui alla festa del quotidiano il foglio sottolineando che sono in corso riunioni incessanti per il prossimo dpcm che sarà sicuramente più restrittivo quindi conte lo ha fatto intuire ma di maio lo dice proprio chiaramente stiamo facendo delle riunioni incessanti sul nuovo dpcm e vediamo che anche riguardo i tumulti la guerriglia urbana a firenze 4 arresti 24 denunce 10 poliziotti feriti e il bilancio di scontri e tafferugli avvenuti la scorsa notte nel centro di firenze nel corso della manifestazione non autorizzata intanto anche la grecia annuncia un parziale lockdown mentre da lunedì a bergamo sono attivi i primi quattro posti letto di terapia intensiva nell'ospedale da campo in fiera mentre secondo la bbc johnson sta valutando un lockdown dell'inghilterra positivo anche l'arcivescovo di milano del fini e intanto la crisi innescata dalla pandemia colpisce più le donne che gli uomini in italia 470 mila posti di lavoro al femminile tra il secondo trimestre del 2019 lo stesso periodo di quest'anno sono sfumati 470 mila posti di lavoro delle donne su 100 impieghi persi in un anno in tutto sono 841 mila quelli femminili rappresentano il 55,9 per cento del totale lo si legge in un dossier della fondazione studi dei consulenti del lavoro che avvalora la tesi di chi parla di una recessione a differenza di quella del 2008 che colpisce più le donne che gli uomini a milano si è passati da 2000 a 20.000 casi a settimana quindi il direttore generale della ts milano città metropolitana walter bergamaschi in occasione di un'audizione in comune a milano ha parlato dell'andamento dei casi in città offrendo anche alcune stime dell'andamento dell'epidemia nelle prossime settimane considerando il mese di ottobre in città si è passati da circa 2000 a circa 20.000 contagi a settimana oggi insomma sono 10 volte quelli di 30 giorni fa ora i contagi continuano a crescere in modo preoccupante dichiara bergamaschi secondo cui la prossima settimana si potrebbe arrivare a quota 30.000 casi secondo il direttore generale dell'ats l'andamento mostra una fiammata nella prima settimana del mese di ottobre e poi un raddoppio la settimana successiva nei sette giorni dal 4 al 10 ottobre i casi sono stati 2000 sono poi triplicati la settimana successiva dall'11 al 17 raggiungendo quota 6.000 poi sono quasi raddoppiati nella settimana dal 18 al 24 raggiungendo quota 11.915 e questa settimana si va verso i 20.000 contagi registrati quindi è vero quello che hanno sempre detto che i contagi raddoppiano praticamente in sette giorni se fosse così anche a livello nazionale potrebbero prima dei fatidico 8 di novembre quando conte voleva valutare gli effetti possibili delle sue restrizioni e potremmo avere anche 60 e oltre 1000 contagiati va bene che poi i contagiati si scoprono con i tamponi quindi più tamponi si fanno più contagiati si scoprono se i tamponi rimangono uguali tra sette giorni probabilmente saranno di più ma non il doppio perché bisogna vedere se aumenta la percentuale di positivi sul numero dei contagiati intanto negli stati uniti nuovo caso sul record di casi nel mondo 100.000 in 24 ore per esattezza 100.233 numeri che superano sia il record nazionale che era di 91.000 sia quello mondiale registrato dall'india a settimana a settembre scusate quando in 24 ore erano stati notificati 97.894 e intanto prosegue la campagna elettorale l'epidemia resta uno dei temi chiave in un comizio il presidente ha lanciato un controverso attacco ai medici insinuando che per loro sia conveniente diagnosticare la morte per covid anziché per patologie preesistenti i nostri medici fanno più soldi se qualcuno muore di covid guadagnano 2000 dollari in più ha detto certo non sappiamo esattamente a cosa si sta riferendo però sappiamo che il mondo gira intorno ai soldi quindi evidentemente tutto può essere anche se non sappiamo esattamente di cosa stia parlando potrebbe anche essere io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale l'iscrizione è gratuita siamo anche in facebook instagram e anche nell'altro canale di youtube che si chiama tele italia seconda rete io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci a tutti grazie a tutti